Aspetta, aspetta, ci manca il portiere, è un attimo, è un bagno, è un bagno, è un piede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vito, Vito, sei già troppo avanti. Vito! Attacca, attacca. Non così. Eccolo lì. Eccolo lì. Vai, dai, 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 dai. Non uscire, Vito, non uscire. Sì, ce l'hai, ce l'hai, Vito! Andiamo a calciare, Vito! Vai! Ci spocchiamo? Vito non deve andare in porta con la palla, devi calciare. Calcia, arriva in casa. Sacca, c'è che presa. Vito, vado a prendere, uno e calca. Vieni, vieni, grigio, grigio, vado a prendere Vito. Vieni, grigio, vieni, grigio, se va, grigio, se va Vito, tu vieni dietro centrale, capito? Guarda che hanno giocato. No, pizzi, temporeggia, 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 ok, ok, temporeggia, temporeggia, ok, ok, temporeggia, ehi, per bene. Vito, vieni, grigio, 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 vieni, che buono a chi con la palla va bene torna va che presa si calcia calcia Elia calcia vanno a prendere Vito uno è calcio si 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 calcio Vitti non stare là però eh se stai là siamo uno in meno se stai là siamo uno in meno bravo Brian bravo Brian per bene dietro Jacopo dietro lì c'era di qua c'era di qua subito su pizzi in alto si ce l'hai di là si è sulle calcia calcia valla a prendere Vito Elia Elia qua Vito valla a prendere Elia temporeggia 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 pizzi temporeggia guarda dietro Jacopo guarda dietro temporeggia non così non così c'è c'è occhio dietro occhio dietro Jacopo toglie c'è di là ancora vai 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 subito noo 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 pizzi Jacopo yes pizzi pizzi uno e calcia subito attacca Brian attacca Brian vai Brian non mollare dai 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 vitto dai vitto vittorio vittorio bravo dai vitto vittorio come si fa sbagliare un gol così tiri piano vitto dietro bravo 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 vittorio 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 ancora lì, ancora lì subito, subito, subito ma piano, vuoi tirare piano una volta o no? posso piano? il piano è questo, mi piace ma cosa è piano? vizio, non lo so io, tira piano in posto al posto di vizio? si, calcio, calcio in sta posto tira no, c'è il cariozzo di che presa, andiamo, andiamo pizzi andiamo pizzi calcio dai lia, bravo lia bravo lia bravo lia bravo vieni via, via andiamo via, forza palla vieni pizzi, tocchia subito dai in piedi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non fatti saltare. Occhio di qua Vito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni esterno, vieni esterno, vieni esterno, vieni esterno, gioca ora, gioca. Vieni esterno, vieni esterno, vieni esterno. Vieni esterno, vieni esterno, vieni esterno. Vieni esterno, vieni esterno. Dai Gabri però, non è indormentati. Sì, è entrata, è entrata. Vieni esterno, vieni esterno, vieni esterno. Vieni esterno. Vieni esterno. È entrata, no? No? Vieni esterno, vieni esterno. Vieni, 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 vieni. 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 pari 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 ha detto che cosa Vito vieni qua Vito vieni qua facciamo cambio campo no ho il gabri scusami cambio campo eh cambio campo Raga cambio campo cambio campo andiamo di qua allora Eccolo! 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 Mi stroppo io! Dove gioca, Gnazzo? Eh? Dove gioca? Ehi! Ehi! Sì! Sì, dai, fino in gioco, se non fai, la sempatia sta da fronte, non ci riesci più niente, dai, separiamoci, dai, quegli altri saranno di qua, fino in gioco, la seconda con l'altro, oppure la di dietro, ci siamo? Portiere? Portiere? Portiere, posto? Portiere? Portiere, posto? Portiere? Lascia il fallo, lascia lì, fallo, andiamo, posto, Nico, 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 costo, guardalo, spiando, Gioca quando vuoi, com'è voi, c'è a posto? Occhio che ti salta secco, eh? Gioca! Gioca! Teporeggia, c'è ancora una palla, Teporeggia Così, scontra, scontra Ci piegna, via, subito, subito, capa Teporeggia, deporeggia Vieni, vieni, vieni Andiamo, andiamo, andiamo No Vito, no Vito Eccolo Vito, uscire Dai Vito 2 a 1 2 per l'anate no? e 1 per la catevaresina 2 per l'anate no? 2 per l'anate no? 2 per l'anate no? 3 per l'anate no? 3 a 1 3 lunate 1 locata a varegino si è fatto male? ok cambio si è rischiato fallo cambia bisogna stare attento vai hill run vini un po' più gami lì il mulallo, quello qui la vado ovvero vini meglio vino guarda la palla allargati allargati un po' prima ne hai fatto due dai vittor, venite vai vittor Ah Grazie 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 8 minuti 3 a 2 Proprio nell'angolina Vai Dai 4 4 o 2 Sì Oh 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 E Grazie. 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 Brava. Un cattolo buono dai pizzi. Pizzi. Lasci il bordo. Bravo. Largo. 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 Di là. Dai che buono ancora. Dai. Dai pizzi. Dai pizzi. Dai. Dai pizzi. 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 5 minuti, 2 gol di vantaggio. 5 minuti. Vieni, vieni, stai là, stai là. Vieni, vieni. E' lì, c'è di che tempo? Terrete? Sì, però c'è. Ahia. Sì, però c'è l'altro. Sì, però c'è l'altro. E' un po' di trattato. Sì, ma l'altro è l'altro. Ma l'altro è l'altro. Guarda la palla, guarda la palla, guarda la palla, si, vieni a prendere la vittima, vieni a prendere la vittima, vieni, grigio, stai dietro, vai via, chiulito. 5 a 3, 5 lonate Ceppino, 3 locate. 3, 5 minuti, vieni, grigio, stai dietro, vai via, chiulito. 3, 5 minuti, vieni, vieni, vai in mezzo, bravo Vitto. Vieni qua, vai bravo! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Grazie a tutti. Quanto manca? 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 Grazie. 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 La cucina sta per chiudere, se qualcuno deve ancora mangiare si accettano le ultime ordinazioni. La cucina sta per chiudere, se qualcuno deve ancora mangiare rapidissimamente all'ingresso raccogliamo le ultime ordinazioni. Grazie. 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 Grazie.